Il nostro modo di fare informazione, il nostro modo di fare televisione vuol dire anche e soprattutto dare voce al cittadino. Siamo in contatto diretto 24 ore su 24 con i cittadini, dico 24 ore perché ci sono non solo gli sms ma ci sono le chat su facebook e quant'altro. Ecco siamo a Lama nei pressi di via Betulle e abbiamo incontrato una signora che abita nella zona e denuncia lo stato di degrado, dice paghiamo le tasse per ricevere che cosa? Per ricevere molta immondizia che ce la vengono a mettere sotto il naso, fra l'altro questa riduzione della strada di notte di solito non si vede e si può andare a finire a mare. Quando il sindaco si decide a venirsi a fare un giretto invece di andare sempre in giro con la fascia a inaugurare qualche cosa? Ci siamo scocciati di questa situazione, non si può stare nell'immondizia e pagare 900 mila euro all'anno di immondizie e vivere nell'immondizia. Vi sentite purtroppo trattati da cittadini di serie B se non serie C? Assolutamente nella ultima classe dei cittadini, forse neanche gli extracomunitari perché anche loro soffrono, però i tarantini stanno veramente male. La città era caduta già nel baratro, adesso siamo sotto terra, inutili che vogliono far venire i turisti, dove li fanno venire i turisti? A passeggiare fra gli escrementi dei cani oppure fra le erbe, così è bellissimo il turismo, infatti vengono una volta e se ne vanno.